Ciao a tutti, bentornati su Beautifly. Oggi dimostrerò l'applicazione del compagno di api per il massaggio sottovuoto e la scrub terapia. Cosa distingue la bolla d'api? La tecnologia unica nella testa dello scrub riduce la cellulite, modula la figura e migliora rapidamente la forma del corpo. Durante il massaggio sottovuoto vengono utilizzati calore, magnetoterapia e terapia della luce rossa, il che rende possibile un massaggio ancora migliore. Ora arriviamo all'applicazione nelle diverse zone del corpo. Si prega di prestare attenzione alle istruzioni sullo schermo in modo da massaggiare nella giusta direzione. Applicare una buona quantità di olio da massaggio prima del trattamento e quindi accendere il dispositivo tramite il pulsante di accensione. Con il pulsante sinistro è possibile impostare la temperatura. È meglio iniziare con quello più basso. Con il pulsante destro è possibile impostare la forza di aspirazione. Entrambe le impostazioni sono visibili sul display. Nella parte inferiore del dispositivo ci sono le sfere di massaggio. Il massaggio sottovuoto utilizza la pressione per assorbire la pelle e raggiungere il tessuto bendato. Stimola la rigenerazione muscolare e della pelle, migliora la circolazione sanguigna, aiuta a rimuovere il tessuto adiposo, sembra rilassato e disintossicante. Le otto sfere massaggianti contengono un magnete energetico che aiuta a pulire il sangue, migliorare il flusso in tutto il corpo e stimolare energicamente gli organi interni. La magnetoterapia viene utilizzata anche nel trattamento dell'infiammazione articolare e dell'artrite per alleviare il dolore e i sintomi. La luce rossa stimola il drenaggio della cellulite e delle tossine da tutte le parti del corpo. Viene anche usato per eliminare le cellule morte della pelle e le rughe in tutti i tipi di pelle. Per ottenere risultati visibili, il massaggio viene effettuato ogni giorno per un minimo di tre settimane. Per evitare coaguli di sangue, fai delicati movimenti di scivolamento. Il Bebubble è un dispositivo professionale.